Ciao, sono Daniele Cascia, sono il titolare della ditta D'Ambiju SRL. Il seminario è stato veramente tanto istruttivo, ho capito delle cose che mi serviranno sicuramente nel mio business per far andare bene le cose. Allora, io consiglierei un seminario e una giornata istruttiva come questa a qualsiasi imprenditore perché quello che ci è stato comunicato è stato veramente importante per qualsiasi persona che fa business per capire come fare a creare la domanda dei propri prodotti.